è in grado di fare tutto e non conosce limiti cm presenta multi skid rc nuovo skid multifunzione con controllo da remoto progettato con piastra attacco universale skid loader per poter ospitare qualsiasi attrezzatura lo abbiamo visto al lavoro ad aviano in fiuli venezia giulia in diverse applicazioni con escavatrice a ruota per lo scavo di una trincea per la posa della fibra ottica presa stradale da mille millimetri per il ripristino dell'asfalto intorno ai pozzetti benna miscelatrice per il successivo ripristino dell'aria presata e anche di benna spazzatrice stradale per la pulizia delle aree di lavoro un vero tutto fare suo obiettivo semplificare il lavoro sempre e ovunque permettendo a un solo operatore di svolgere operazioni che generalmente richiedono la presenza di due persone un operatore però che vede per due radio comandando la macchina ha infatti una visibilità totale che può seguire in primo piano l'attrezzatura montata un aspetto decisamente utile soprattutto quando è richiesta alla massima precisione come nell'intervento immortalato da terra e non in cabina la visione a 360 gradi garantita sue parole chiave stabilità e sicurezza è stabile grazie al sottocarro trapezoidali al baricentro basso che permettono di lavorare anche su superfici sterrate e con forte inclinazione esempio per trinciature con trince forestali è sicuro per il radiocomando che consente di eseguire i lavori a distanza in contesti pericolosi l'operatore tramite il radiocomando può controllare in tempo reale se le condizioni di lavoro sono ottimali oltre a tutte le funzioni ai parametri della macchina compresi il livello del carburante la temperatura del motore ed eventuali anomalie in caso di guasti il dispositivo emette un segnale acustico alimentato da un motore cummins 102 hp 4 cilindri il suo peso è di 3,5 tonnellate larghezza careggiata di 1800 mm a dimensioni compatte ma un'altezza massima fino a 3 metri per scarichi ad altezze elevate anche su camion e vasche l'impianto idraulico è potente come negli skid di taglia massima presenti attualmente sul mercato ideale quindi per l'uso di attrezzature che richiedono un impegno idraulico notevole come appunto le scavatrici a ruota e la fresa da mille millimetri tra gli altri flusso aspiratore motore con prefiltro ciclonico fari di lavoro a lampeggiante e zavorre per controbilanciare attrezzature pesanti da non dimenticare la manutenzione semplificata multi skid rc il problem solver per ogni cantiere inizialmente belichettate